Ciao, bentornati e bentornati. In questo video parliamo di numeri complessi di meccanica quantistica e in particolare vogliamo capire qual è l'utilità dei numeri complessi. Ma prima, molto velocemente, per chi ancora non lo sapesse, spiego che cos'è un numero complesso. Alla base dei numeri complessi c'è l'unità immaginaria che si indica con la lettera I ed è un nuovo numero che ha la proprietà che se elevato alla seconda è uguale a meno 1. E da questo risulta chiaro che I non può essere un numero reale perché 0 alla seconda è uguale a 0 e qualunque altro numero reale elevato alla seconda dà un risultato positivo. Da qui si può costruire un numero complesso che indichiamo con la lettera Z che è dato dalla somma di un numero reale A per un altro numero reale B moltiplicato per l'unità immaginaria I. Quindi Z è uguale ad A più IB. Il numero A prende il nome di parte reale di Z, il numero B e la parte immaginaria di Z. Quindi a ogni coppia ordinate di numeri reali è associato un numero complesso e per questo motivo i numeri complessi possono anche essere rappresentati graficamente con un vettore in due dimensioni dove sull'asse della sciss mettiamo la parte reale A e sull'asse delle ordinate la parte immaginaria B. Inoltre ogni numero complesso è associato un modulo che sarebbe geometricamente la lunghezza del vettore che per il teorema di Pitagora il modulo di Z è uguale alla radice quadrata di A alla seconda più B alla seconda. Il modulo di un numero complesso è un numero reale positivo. Inoltre ogni numero complesso viene associato un numero complesso coniugato indicato di solito con un asterisco in alto che è un numero che ha la stessa parte reale e la parte immaginaria opposta quindi A meno IB. Una formula abbastanza utile è che un numero Z per il suo coniugato dà il modulo alla seconda. Qui sotto è riportato alla dimostrazione e vedremo che il modulo alla seconda è una quantità molto importante quando si parla di numeri complessi. Z è uguale A più IB è detta anche forma cartesiana del numero complesso e quando in questa forma è abbastanza complicato effettuare potenze soprattutto con esponenti grandi e radici. Invece queste operazioni sono molto più comode quando il numero complesso è in forma trigonometrica quindi Z è uguale a R cos theta più i sin theta dove R è un altro modo per indicare il modulo quindi R è uguale alla radice di A alla seconda più B alla seconda mentre theta è detto argomento di Z ed è l'angolo che il vettore forma con l'asse reale, con l'asse X. L'equivalenza tra queste due formule è data dal fatto che A e B sarebbero i cateti del triangolo rettangolo quindi A è uguale ad R cos theta mentre B è uguale ad R sin theta. Infine se ricordiamo l'identità di Eulero cioè E elevato ai theta uguale cos theta più sin theta per qualunque angolo allora Z può essere scritto come R per E elevato ai theta e questa è una scrittura molto comoda perché si possono fare moltiplicazioni potenze e radici sfruttando le proprietà delle potenze in quanto la base è sempre la stessa, sono tutte potenze in base E. Tra l'altro sull'identità di Eulero ho preparato un video se sei interessato ti lascio il link nel commento che metto in primo piano. Quindi dopo questa veloce sintesi su cosa sono i numeri complessi e come si scrivono veniamo alla domanda per cui è aperto questo video a che cosa servono i numeri complessi e in particolare che cosa servono in fisica? E questa è una domanda che si pongono in tanti perché la fisica studia il mondo reale. Infatti una grandezza fisica è per definizione proprio qualcosa che si può misurare e tutte le misure portano numeri reali. Se voi misurate la lunghezza di una matita ottenete un numero reale tant'è che se elevate una lunghezza alla seconda ottenete un numero positivo, non ottenete mai un numero negativo. La temperatura di un corpo un numero reale, la massa di una persona un numero reale, le componenti di un vettore come una forza sono numeri reali. In generale qualunque misura si esprime con numeri reali. E quindi a cosa servono questi numeri complessi? Allora se siamo nell'ambito della fisica classica, ad esempio meccanica, termodinamica, elettromagnetismo, allora i numeri complessi li usiamo in modo indiretto, cioè ci sono di aiuto per calcolare qualcos'altro che sarà alla fine un numero reale. Ad esempio magari abbiamo un problema di fisica dove c'è un'equazione a coefficienti reali le cui soluzioni sono numeri reali, ma per risolverla passiamo ai numeri complessi per poi alla fine tornare ai numeri reali. Altre volte si assegnano dei valori complessi a dei parametri fisici che per poi vengono elaborati e alla fine ciò che si misura realmente è sempre un numero reale che può essere calcolato con quei parametri complessi. Quindi nella fisica classica i numeri complessi sono utili ma non sono strettamente necessari, se ne potrebbe anche fare a meno. Non possiamo però dire la stessa cosa nell'ambito della meccanica quantistica, cioè quando andiamo a studiare dei sistemi microscopici come delle particelle elementari, degli atomi, delle molecole. Tutti quei soggetti seguono le leggi della meccanica quantistica, i cui risultati sono di una precisione sorprendente. Ecco, la meccanica quantistica per come la conosciamo noi non potremmo studiarla senza i numeri complessi che diventano indispensabili, fondamentali. Infatti l'equazione fondamentale della meccanica quantistica è l'equazione di Schrödinger scritta nel 1925 che si occupa della funzione d'onda indicata con questa lettera greca che si legge ψ. L'equazione è questa, i è l'unità immaginaria di cui abbiamo parlato prima, h tagliato è una costante, qui abbiamo una derivata parziale rispetto al tempo della funzione d'onda ed è uguale all'operatore Hamiltoniano h applicato alla funzione d'onda. h è un operatore lineare, questo è un fatto estremamente importante nell'ambito della meccanica quantistica ma di questo ne parliamo un'altra volta. La funzione d'onda è una variabile dinamica, cioè dipende oltre che dalla posizione x, y e z anche dal tempo t e soprattutto cosa importante la funzione d'onda contiene tutta l'informazione sullo stato di un sistema fisico. Quindi se vogliamo descrivere un atomo, una molecola o un altro oggetto dal punto di vista della meccanica quantistica dobbiamo fornire la funzione d'onda. La funzione d'onda ψ è un numero complesso, ψ appartiene all'insieme dei numeri complessi e non può che essere così ed emerge immediatamente dall'equazione di Schrödinger. Infatti se per assurdo ψ fosse un numero reale, allora anche il secondo membro sarebbe un numero reale perché l'operatore Hamiltoniano di un numero reale dà un numero reale. Ma anche h tagliato per la derivata di ψ rispetto al tempo sarebbe un numero reale e se poi lo moltiplichiamo per i otterremo un numero immaginario e quindi avremmo a primo membro un numero immaginario e a secondo membro un numero reale e questo vuol dire che ψ non può essere un numero reale. Cioè in altre parole la funzione d'onda è la soluzione dell'equazione di Schrödinger e abbiamo dimostrato che nessun numero reale può essere soluzione dell'equazione di Schrödinger ma sono tutti numeri complessi. L'equazione di Schrödinger non ha soluzioni reali. Ora le cose sembrano un po' strane perché abbiamo detto che la funzione d'onda è complessa però anche che la funzione d'onda descrive lo stato di un sistema fisico e lo stato di un sistema fisico ha delle misure che sono numeri reali. Quindi la funzione d'onda da un lato ha in sé tutte le informazioni sul sistema fisico ma dall'altro non è qualcosa che noi misuriamo direttamente ma ha un significato indiretto. E questo significato non era neanche tanto chiaro lo stesso Schrödinger quando ha scritto la sua famosa equazione nel 1925. Il significato della funzione d'onda è stato capito qualche mese dopo da Max Born, fisico tedesco che capì che la funzione d'onda in qualche modo è legato alla probabilità che la particella si trovi in un certo luogo in un certo istante di tempo. E il fatto che dall'equazione di Schrödinger si ricavasse una probabilità non piaceva a molti eminenti fisici, non piaceva ad Einstein, da qua nasce la famosa frase Dio non gioca a dadi e non piaceva neanche lo stesso Schrödinger. Il famoso gatto di Schrödinger, non so se ne avete già sentito parlare, ma è proprio una polemica di Schrödinger che vuole mettere in luce l'assurdità della funzione d'onda come probabilità. Oggi, dopo quasi un secolo, sappiamo che la meccanica quantistica fornisce risultati estremamente accurati e pensate che tutta la moderna tecnologia all'elettronica è basata sulle leggi della meccanica quantistica e quindi oggi riteniamo che Einstein e Schrödinger fossero in errore nel dubitare la natura probabilistica della funzione d'onda. O meglio, erano in errore nel pensare che non fosse vero che la probabilità fosse come fondamento delle leggi della fisica. C'è anche da dire però che Einstein e Schrödinger sono stati dei grandi fisici, erano dei geni e se si sono sbagliati non l'hanno fatto in modo sciocco e dalle loro riflessioni c'è molto da imparare. E quindi è interessante leggere le loro obiezioni e le risposte alle loro obiezioni. Comunque, se la funzione d'onda è un numero complesso, come si concilia con la probabilità che anche la probabilità è un numero reale, un numero reale compreso tra 0 e 1? Quindi qual è l'interpretazione di Born? Se ricordate all'inizio del video abbiamo detto che il modulo di un numero complesso è un numero reale e in particolare anche il modulo al quadrato di un numero complesso, un numero reale positivo. Ebbene, Max Born ha dimostrato che il quadrato del modulo della funzione d'onda non è altro che la densità di probabilità. Cioè, se io considero un piccolo volume che chiamo d3r, allora la probabilità di trovare la particella al tempo t in questo piccolo volume, se la particella viene misurata, è uguale a dp che è uguale a psi alla seconda per d3r. Cioè, moltiplicando la densità di probabilità per il volume piccolo, si ottiene la probabilità di trovare la particella dentro questo volume. Piccolo perché non è detto che la probabilità sia costante, quindi si prende molto piccolo in modo che sia costante dentro quel volume. Per cui se integriamo da meno infinito a più infinito, cioè in tutto lo spazio, meno infinito a più infinito in tutte e tre le direzioni x, y e z, allora otteniamo 1, cioè una probabilità del 100%. Due osservazioni importanti. La prima è che ho precisato se la particella viene misurata, perché finché non misuriamo la particella essa non ha una posizione precisa. Assume una posizione dopo che viene misurata. Lo so che sembra strano, ma è così. Cioè, in pratica non è come la probabilità classica che è dovuta a una mancanza di informazioni. Quando lanciamo un dado, diciamo che c'è una probabilità su 6 che esca il numero 1, ad esempio, perché noi non abbiamo tutte le informazioni sul motto del dado, non abbiamo tutti i dati, se no noi potremmo anche calcolare che faccia esce. Ecco, invece, la probabilità quantistica non è dovuta a una mancanza di informazioni, ma è intrinseca nel sistema, cioè fa proprio parte della natura. La natura è probabilistica. Concludo con una piccola curiosità, magari qualcosa che neanche tutti i fisici sanno. Abbiamo parlato di Max Born in questo video. Ebbene, Max Born era il nonno di una persona che probabilmente conoscete, una persona dello spettacolo, ovvero Olivia Newton-John. Mancata purtroppo l'anno scorso, nel 2022, può sembrare strano perché Born era tedesco, Olivia australiana, ma se andiamo a leggere le biografie, anzitutto Born si è trasferito nel 1933 in Inghilterra a causa delle persecuzioni naziste, perché era di origine ebraiche, e poi è tornato in Germania negli anni 50, ma la figlia Irene, quando era grande, si è a sua volta trasferita in Australia. Olivia aveva solo 5 anni e ha acquisito la cittadinanza australiana. Come sempre ti ringrazio per avermi seguito fino in fondo, ti ricordo di mettere il like se il video ti è piaciuto e di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao e grazie!